Buongiorno a tutti ragazzi io sono Blue Lucky Boy e come vedete dallo sfondo io ho appena finito di editare la seconda parte della challenge di Fortnite che abbiamo messo Sarà una cosa spettacolare ve lo dico guardatevelo tutto perché è veramente fantastico come video Ci sarà anche una terza parte perché il video è veramente uscito molto lungo quindi vi auguro una buona visione Bella Ok Ora sta a fare la partita a lui E dopo ne faccio un'altra io Chi vince cioè chi perde fa la penitenza Ok Queste le farò tutte io Tutte Molto probabile Tutte Perché sono io lo spiegato che becca il nemico senza neanche un'arma Guarda tu becchi Guarda Le armi buone lo so Perché becchi uno col pompa ti sciotta male Però Guarda 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 tu becchi tutti quelli stupidi Ti giuro che comunque quando miri mi sarei l'ansia Lo so ma io non ho l'audio quindi non sento posso solo guardare capito Ah beh è vero Li vedo roba oro Davvero Davvero Tanto il cecchino non l'avrei mai usato Oh Cosa fai? Eh ho sbagliato tasto So di aver fatto male So benissimo di aver fatto male Eh Sempre con 30 Mancavano Mancavano 10 secondi alla Seconda safe Era 39 di vita Perché ha cambiato totalmente tutto? Si ha un orario Deciso da pinnacoli Hai presente l'orologio che c'ha a pinnacoli? Ah si? Decide l'orario del gioco Non lo sapevo E l'orologio continua a muoversi Anche se lo distruggi? Si Ovvio Il tempo va avanti se tu distruggi un monumento No Per me no Se io distruggo Se io sbatto l'orologio sul tavolo Per me il tempo non va avanti Cioè il resto Era glaciale Uguale Quindi se distruggeva un orologio in questo momento Se distruggi un Rolex è ovvio che si ferma il tempo Guarda Sono io quello che non becca un'arma Guarda Niente la pistola è buona Quando soprattutto Guarda 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 Io lo so Zitto Eh vabbè Eh vabbè Facciamo una petizione per far imparare Paolo Come si usa il rampino Per favore Come si usa lo scuro accessi Guarda 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 Mi costruisce Eh lo so È più lento Non ce la farei mai con Guarda Dov'è? Dov'è? Lì Vabbè regà Devi guardare comunque là Io te l'ho detto che facevo Le facevo tutte io Io l'ho detto Purtroppo io sono il proprietario del canale adesso Giocare una partita con i guanti Si è visto Giocare una partita con i guanti Solo io ho fatto quelle bastarde Vabbè Ma sono piccoli regà Sono piccoli Io come cazzo faccio a giocare questa cosa Non riesco neanche a mettermi Non me ne riesco a mettere Ma non è perché è troppo stretto Ma si mi può darsi Quest'altro come cazzo è entrato Non è che ho le mani diverse io Si sembra di giocare con le salsicce Ascolta Se riesco a fare una kill così Ma dubito Dubito Lo prendo io Si se riesco a fare una kill così Te lo giuro devi prendere una cosa Devi prendere tu una penita Perché è veramente Non riesco neanche a cambiare Non riesco Te lo giuro Non riesco a giocare La mia prima volta Col mouse e tastiera No Sto giocando con i guanti Io trovo un nemico Gli ballo davanti Ok Se riesci ad arrivare al ballo Se riesco ad arrivarci al ballo Giusto Io lo vado a prendere In pratica Perché glielo porto Hai fatto danno L'ho preso No Ha finito le munizioni L'ho visto proprio di sopra Poi magari è sceso Guarda Come vedete Io non uso mai la piramide Nei miei giochi La costruisco adesso Quella là Lo schiaffo Dai Soltanto per Così Questo Non è perché Lui ha sbagliato Perché tu Quante chili hai fatto Una Io prima Tu prima ne hai fatta una Io l'ho fatta una Sono rimasto in gioco Più di te Quindi in pratica Come se avessi vinto Si E' come se io dovessi Subire una penitenza Diciamo così Dai FUS BRUTA Oh ma no Ho sentito Ho visto l'apparecchio Che Si vedete Adesso la mascella Che partiva E io no Ragazzi questa qua Davvero Allungi almeno 10 like Almeno Io non voglio chiedere niente Cioè decidete voi Però io mi sono divertito A fare sta cosa Noi si Io non sono uno Che si può permettere Di chiedere il like Però Vabbè Sarei contento Sarei contento Se questa cosa andasse A buon fine A buon fine Sì Direi che l'ultima partita Chi vince Si fa tutto Chi perde Fa tutte le penitenze No tutte no Tutte no Almeno due Due pescate Perché ho paura Vabbè Tanto Cioè non è che Può darsi che la vinci Cioè Eh si ok Però La mia parte Negativa Neomelodica Allo scudo No vabbè Ma è nabbo È nabbo È nabbo In che se faccio schifo Con la mira Sta cosa Tu Sali Sali Guardalo Cosa fai Eh vabbè Ma usa lo scar No Sei un coglione Allora Cosa fai Sei In testa Quattro abiti in testa Cioè Serio Comunque è una kill Mi interessa Una kill E quasi fine Della safe Cioè Inizio Della seconda safe Ok Ci sta Dai bravo No Davvero Se non trovi nulla Prendi Cito 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 Non sento nessuno Eh c'è la porticina Dall'altra parte Ora sono più contento Beh vedi io me li vado a cercare game Sì lo so ma io cerco prima di buttare tutto il possibile Eh io sono stupido Tu no Perché se io ho la possibilità Di trovare armi migliori Eccolo là l'ho visto No non la prenderai mai Devi mirare più in alto Io non vorrei dire Sempre lì muoio io Quindici di vita Proprio così Di cattiveria Ci vai No No raga Cos'è 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 No io questa l'avevo fatta per E come sempre raga Vi lascio con la suspense Perché voi dovete vedere anche la terza parte Nella terza parte Veramente ci sarà da ridere Vi dico solo questo Lucifer Farà gli addominali E ci sarà una sorpresa per voi Vi dico già solo questo Spero che il video vi sia piaciuto E in questo caso Se volete lasciare un mi piace Lasciatelo Non vi chiedo niente Come ho specificato nel video Niente Bella Ciao 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 Grazie a tutti.